Crescono le ristrutturazioni, complice il neobonus 110% e cresce anche il pericolo di imbattersi in materiali contenenti la fibra killer, l'amianto. Per questo, con fartigianato edilizia, insieme ai sindacati dei lavoratori e ad altre associazioni imprenditoriali, ha lanciato la campagna nazionale di sensibilizzazione Occhio all'amianto, un opuscolo cartaceo e virtuale che sta per essere distribuito a tutti i lavoratori e imprese della Sardegna e del resto d'Italia. Il settore edile italiano ha bandito l'amianto da circa 30 anni, ma nelle ristrutturazioni si continua a trovare una quantità importante di Eternit, commenta Daniele Serra, segretario di Confartigianato Imprese Sardegna. Il materiale, consultabile all'indirizzo www.occhioallamianto.it, contiene le indicazioni sugli atteggiamenti da seguire se si sospetta la presenza dell'amianto, le indicazioni per la bonifica e l'elenco dei materiali che potrebbero contenere questa fibra.